Ciao ragazzi, prima di iniziare il video vi invito a passare dai canali di Sickwolf, ZW Jackson e Kundispa che trovate sia nei commenti che in descrizione. Abbiamo fatto altre challenge con loro che usciranno alla stessa ora di questo video, mi raccomando passate e arriviamo a 1000 like per vedere la prossima challenge. Ciao a tutti dai Fritz Italia, non godetevi il video, ciao! Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Fritz Italia, siamo qua al campo con gli ospiti molto speciali, vi presentiamo ZW Jackson, ciao ragazzi, Sickwolf, Kundispa, Bella e Jakub. In questa sfida ci affronteremo a colpi di Fritz Italia, la squadra Fritz Italia, composta da me, Massimo e Marco e la squadra... Siamo nemici, non ti posso più abbracciare. In questa sfida chi farà prima 5 gol delle due squadre, cioè la nostra Fritz Italia e l'altra di Youtube, vincerà la challenge. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace per altri video e passate anche dai loro canali. Ciao ragazzi, andiamo alla sfida. Primo tiro, attenzione, subito. Bravo portiere! Il portiere c'è. Dai, guarda che non è FI che fa questo, eh. Raga, hashtag Lil Pump raga, te la metto lì. XX Tentation è tornato. Oh no! Oppurti! Con il no look? Oh, Jako svegliati! Mi piace solo per questo no look. Forza la squadra di Youtube. Non vale distrarre il portiere perché l'hai distratto troppo. No, no, come quando c'è il clipo c'è il rito e schiacci stare. Vai, vai, va bene. Uuuuuh! Yes. Parte Kundispa, rappresentare la squadra di Youtube. Ballone buonissimo il test, vediamo. Sembra Mancino, no, è destro. Se ne si prepara. Siete pronti? Non è cazzata. Il chiedira di Quiliano. Oh, portiere immobile! Portiere immobile! Hashtag portiere immobile, non c'era. Uuuuh! Uuuuh, portierone! Adesso si butta sopra. Grande portiere, mi raccomando, i 50 euro dopo. Sik, chiudi lì, Sik. Sik Wolf, per il terzo gol. Oh! Eh, ci manca solo che la faccia attraverso. Va bene. L'importante è mettere il portiere. Ma io, ma io, ma io pensavo avessimo comprato il portiere. Ho detto, no, c'è tanto se butta. No, non si è buttato prima, si doveva buttare adesso. Attenzione. Giro 2. Vediamo se vuole la vendetta. Mamma mia! Comprare il portiere è sempre la migliore cosa. L'ho messo una volta, proviamo a rimetterla la seconda volta. Dai, non si distrae il portiere. Pronto, portier! Ma sto qua, mica, parla troppo. Pronto, non prendalo. Qua rischiato! Stavolta mi ha distretto lui, eh. Mi ha distretto lui stavolta. Mi ha messo la prova. Ma è meglio ancora. Uuuuh! Sì, 2-1. Eh, questo era un knuckleball. Knuckleball. Ho visto io. Cristiano Ronaldo. Ci siamo già andati ieri. Per il 3-1. 3-1? Bene, 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 bene. Male, male, male. Si pareggia, si pareggia. Per il pareggio. Non è un sport in Antifix Italia. Ma porta? Sì, che no, no, non sei sotto pressione. Non sei sotto pressione. Non lo sei, davvero, non lo sei. Per porta, per porta. Oh! Terzo giro. Punteggio? Maestro? 2-1. Maestro dice 2. Eh, questo è bello. Attenzione. Due pari. Ci sono io, ma prendibile. Due pari. Ricoperiamo. Che devo essere sempre io? I pari stanno rimontando. Allora, andiamo a fare il 3-2 perché questo pareggio non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto per niente. Pronto? Pronto. La crossbar è il video dopo. E dopo, cazzo, la crossbar. Dopo. Dopo un po', eh. No. 3-2. Il rimontone ci han fatto. Tu, è tutto nelle tue mani. Anche tu non hai pressione addosso. Grazie. Non hai pressione. L'infortunio. Uh! Dai, puntati! Dai! Dai, Max. Il tiro segreto. Portier! Facile per lui. È un campione, ragazzi. È un campione. Adesso tiro fuori. Finis him. Si ha tre pari, eh. Non può sbagliare. No! Cesar Prates! Chi? Cesar Prates. Io mi sentivo un attimo Kozak. Ma come cazzo si fa? Si ha tre pari, ragazzi. Posso andare su un 4-3. Dai, su. Kozak, tiragli la panna. Porto! Portiere! Questa è il bug di FIFA che se tiri di corico te ti devi... Allora, siccome il portiere è qua, li conosce da più tempo, allora... gli vuole fare qualcosa. Non l'ho mai visto. Siccome ci sono queste ladrate, tirerò forte, forte. Pronto? Non è un'attività, eh. Non è un asilo. Ragazzi. È comunque un'esecuzione migliore della mia. Se segnano abbiano vinto. Dai, si va per chiuderla. Mara! Portier! Ultra Instinct! No! Sì! Una gran vittoria. Grandissimo. Ci rifacciamo. Ragazzi, il video è finito. Abbiamo vinto grazie al nostro portiere che all'inizio si vede tutta gli altri. In realtà abbiamo vinto perché ho fatto tre gol, comunque. Coppio giochista! Il traditore se ne è andato. Mi raccomando, ragazzi, continuate a seguirci, mettere mi piace, commentari, iscrivetevi anche ai loro canali, anche se non hanno bisogno di altri iscritti. Un saluto da Marco. E condividete su Facebook, taggando gli amici che tirano come ho tirato prima io. Mi raccomando, ragazzi. Tu è pieno, tu è pieno. Tutti gli amici. Ciao ragazzi, un saluto da Flakes Italia, ZW Jackson, Seicolf, Condispo e tutti quanti. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Grazie a tutti.